L'interessante dell'esperienza in questa regione è stato che tutto è nato sette anni fa da una iniziativa della regione che ha chiesto all'agenzia di organizzare un registro di raccolta dei dati di tutte le microbiologie che erano presenti in Toscana. Al di là delle difficoltà tecniche di fare questo in un contesto nel quale, come nella migliore tradizione nazionale, ognuno ha il suo sistema operativo, ognuno ha il suo sistema di archiviazione dei dati, che poi con molta pazienza e abnegazione da parte dei nostri collaboratori è stato via via risolto, e anche da parte della buona disponibilità di chi lavora nei laboratori. L'interessante è vedere come, osservando finalmente dei dati e delle informazioni robuste, possa nascere la consapevolezza. E cioè a dire il vedere quali e quante sono le resistenze agli antibiotici, come siano distribuite nei differenti ospedali e nei differenti territori, e su questo qui cominciano a lavorare insieme. Infatti nel contempo in cui a livello istituzionale venivano a maturare tutta una serie di intenzioni e poi di azioni per quello che riguarda la lotta, il contrasto, la prevenzione delle infezioni correlata all'assistenza e con particolare riferimento al problema dell'antibiotico di resistenza, nascevano in maniera più o meno spontanea, diciamo, incontri tra clinici, tra direttori di ospedali, tra infermieri, tutti insieme, per elaborare strategie di contrasto e strategie per affrontare questo fenomeno. Finalmente c'era la percezione che stavamo affrontando un tema pericoloso per la salute dei pazienti. E questo per chi fa i mestieri di curare le persone è una fortissima motivazione, molto più forte di qualunque atto, diciamo, istituzionale, se esso ministeriale, se esso regionale. E da questo sono nate le prime idee, poi esperienze di aspetti, che ha a che vedere con la stewardship delle antibiotici, che poi si è arricchita con l'idea di una stewardship anche diagnostica, di mettere le attività della microbiologia in una rete informale. È nato il concetto che le infezioni sono delle patologie tempodipendenti, che bisogna agire tempestivamente. È nato il concetto che dovevamo rivedere completamente tutte quelle che erano anche delle politiche che sembravano desuete quasi su quella che riguarda il controllo delle infezioni, le misure genico-sanitarie. E quindi ecco, si è formato veramente, diciamo, una cultura che adesso sta andando di pari passo, quindi anticipa, anche anticipa, comprende di pari passo, con quelle che sono poi le varie, diciamo, prese di posizione e quindi inviti all'implementazione da parte delle istituzioni. E questa è una buona esperienza.